Sardiena è uno dei migliori giocatori di tutta questa divisione, se non il migliore. Con il suo jumpshot e la sua capacità di segnare, non sarei sorpreso di vederlo presto in livelli principali di Europa. Sua volontà di vincere è molto alta. Il team finito metà stagione 2-11, e con l'aggiunta di Sardiena l'anno scorso, abbiamo saltato per una delle squadre migliori in Italia. Siamo molto contenti di aver firmato, lui gli ha dato la possibilità di mostrare il suo talento, fornendo alla città di vola un gioco molto divertente. Essendo il primo giocatore, abbiamo firmato Valcana, sono molto felice, di vedere la qualità dei giocatori che vi assiedono. Sono molto entusiasta di vedere Cosa Sardiena, e questa squadra può fare per tutta la stagione. Sardiena, e questa squadra può fare per tutta la stagione. Sardiena, e questa squadra può fare per tutta la stagione. Sardiena, e questa squadra può fare per tutta la stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.